Questo è l'impasto per fare i biscotti con la mandorla. È molto semplice. Io personalmente faccio tostare le mandorle prima di inserirle nell'impasto. L'impasto lo faccio con uova, farina, zucchero, latte, un po' di lievito e un po' di rum. Se non ho il rum ci metto un pochettino di alcol. Poi basta mescolare il tutto, fare a filoncini, mettere nel forno, sfornare, tagliare e rimettere nuovamente in forno. Guardate il video che segue.